Il Consorzio della tutela dello zafferano dell'Aquila d'Op, nell'ambito del progetto Loro d'Abruzzo, con l'evento Lezioni di Qualità, porta lo zafferano nelle scuole. Lo scopo dell'iniziativa è la sensibilizzazione dei ragazzi alla conoscenza delle produzioni tipiche della terra d'Abruzzo, spingendoli a riconoscere le caratteristiche e a renderli i cittadini più consapevoli sia delle risorse della propria terra, sia dei benefici di una corretta alimentazione. E quindi magari invogliare i ragazzi ad avvicinarsi alla produzione di zafferano, che può essere una risorsa anche economica per le famiglie, per i giovani. Sappiamo bene che al giorno d'oggi ci sono poche opportunità di lavoro nel nostro territorio soprattutto. E quindi riscoprire una produzione legata alla terra, che può dare anche degli ottimi risultati dal punto di vista economico, è una risorsa per i giovani, ma un po' per tutti, per tutto il territorio dell'Aquilano e dell'Altopiano di Navelli. La prima delle lezioni di qualità si è svolta all'Istituto Agrario Colecchi all'Aquila. È importantissimo e fondamentale conoscere in modo più approfondito i prodotti del nostro territorio, come lo zafferano. Con un mio compagno di classe già pensavamo di coltivare lo zafferano, perché riteniamo che lo zafferano è un'ottima risorsa per la nostra città e comunque anche il lato economico è importante. L'idea è nata semplicemente dal fatto che come scuola abbiamo accolto ben volentieri l'invito fattoci sia dal Consorzio di tutela, sia dalla Camera di commercio dell'Aquila, che curerà l'organizzazione del corso, per rilanciare una coltivazione simbolo del nostro territorio, in virtù del fatto che negli ultimi anni la produzione di questa preziosa spezia era andata scemando. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani verso una ripresa della coltivazione dello zafferano.